La street art è una forma d'arte non autorizzata, fatta in strada, con un carattere fortemente populista e non elitaria, in quanto parla alla gente comune con immagini semplici e dirette, spesso umoristiche, e affronta temi sociali e politici, con messaggi chiari ed eloquenti. Gli street artists non hanno bisogno di galleristi per vendere le proprie opere, né di musei dove esporle, perché per principio sono contrari al capitalismo e al consumismo. Oggi il più noto di questi artisti è sicuramente Banksy, pseudonimo dietro al quale si nasconde un anonimo artista britannico nativo di Bristol. Diverse sono le tematiche da lui affrontate, spesso attraverso accostamenti di immagini dissonanti, per obbligare l'osservatorio a una riflessione profonda, come avviene per esempio nella figura di un terrorista che lancia un mazzo di fiori, o nella bambina che vola in alto, sollevata da palloncini, sul muro di separazione israeliana in Cisgiordania. Il graffitismo nasce in seno alla cultura hip-hop alla fine degli anni 60 del Novecento e fu riconosciuto come nuova forma d'arte nel 1973 da Richard Goldstein, in un articolo pubblicato sul New York Magazine. Il graffitismo si manifesta sia nelle periferie, sui muri degli edifici abbandonati, sia nelle metropoli, sui vagoni o nelle gallerie delle metropolitane, e nei sottopassaggi stradali, come per esempio a New York, nei quartieri del Bronx e di Harlem. La vernice spray serve ai graffitari, detti writers, raggruppati in bande, dette i crew, per marcare il territorio, attraverso scritte con caratteri fumettistici, identificabili mediante loghi personali o tag, sigle del nome o del soprannome degli autori. I motivi che spingono i graffitari e imbrattare i propri quartieri sono legati al disprezzo nei confronti della proprietà privata, alle proteste dovute all'emarginazione di alcune realtà sociali, o più semplicemente al desiderio di esporre le proprie realizzazioni di fronte a un vasto pubblico, senza doverlo fare dentro una galleria. Il graffitismo si è poi evoluto negli anni Ottanta del Novecento nella street art, una pratica di writing che utilizza stencil, maschere che servono a riprodurre in serie forme o lettere, sticker, etichette adesive, oltre a pennelli e bombolette spray. Secondo l'artista americano John Fechner, la street art è tutto ciò che sta in strada che non è un graffito. All'inizio si tendeva a considerare la street art come un atto vandalico, perché era un prepotente gesto libero che non richiedeva permessi. Negli anni settanta del Novecento cominciano poi a stabilirsi delle regole non scritte riguardanti i soggetti trattati, che dovevano relazionarsi col territorio e col momento in cui venivano pensati, in quanto opere di protesta sociale, e il rispetto dei murales altrui, che non andavano coperti con i propri. Negli anni settanta l'artista canadese Richard Hambleton, considerato il padrino della street art, lavora nel quartiere del Lower East Side a New York, dove realizza tipiche scene del crimine, con la sagoma di gesso delle vittime di omicidi di massa, alle quali aggiunge la vernice rossa per richiamare il sangue versato. Passerà poi negli anni ottanta agli Shadow Men, uomini ombra, misteriosi a grandezza naturale, dipinti coi pennelli e volutamente sgocciolanti, con l'effetto di sorprendere e spaventare l'osservatore, che rimaneva stupito e allo stesso tempo coinvolto. Il mondo dell'arte new yorkese comincia negli anni ottanta del Novecento a interessarsi ai giovani graffitari, che iniziano a farsi conoscere anche nell'ambito del mercato, attirando centinaia di spettatori attraverso vere e proprie performance, durante le quali realizzano le loro opere. Alcuni di questi artisti, come Keith Haring o Jean-Michel Basquiat, furono amici dell'artista pop Andy Warhol, grazie al quale riuscirono ad avere anche un eco in Europa. Giunto giovanissimo a New York dalla Pennsylvania, Keith Haring adotta uno stile pittorico gioioso e frizzante. Le sue coloratissime figure di omini e animali stilizzati si intrecciano tra loro in un'infinità di combinazioni, fondendosi e sprigionando energia vitale. Questo mondo fantastico e colorato è fortemente legato ai temi sociali che spesso tratta, come la difesa della natura, la denuncia contro le ingiustizie, la pace, la battaglia per le libertà sessuali e la lotta contro l'AIDS, malattia che ne causerà anche la sua morte nel 1990. Nel murales realizzato a Pisa sulla parete della canonica della chiesa di Sant'Antonio Abate tra il 14 e il 20 giugno del 1989, Haring inserisce 30 figure tra uomini e animali antropomorfi. A partire dall'alto a sinistra si distinguono un omino che sembra incastrarsi all'interno di altre forme come una matriosca, un altro che ha una gamba collegata a un braccio e passando dal centro del corpo rimanda al simbolo dell'infinito come segno dell'eterno ritorno della vita, un uomo poi sostiene un delfino sulla spalla come rimando alla salvaguardia del pianeta e delle forbici antropomorfe tagliano un serpente a metà, simbolo del bene che sconfigge il male. All'estrema destra tre ominie di colore diverso sembrano nascere dalle reciproche teste. Quello centrale tiene in mano un foglio con un cuore a simboleggiare l'amore e il rispetto tra le diverse culture del mondo. Nella linea sottostante al centro quattro figure gialle unite a formare una croce rimandano alla croce pisana. A sinistra si individuano un uomo scala, un altro rappresentato in basso, che si riferisce all'ambizione smisurata di alcuni potenti, una scimmia, un delfino con le gambe, un volatile e un cane. E ancora nella fascia mediana si distinguono un omino con una televisione al posto della testa, simbolo del pericolo dei nuovi mezzi di comunicazione, una madre che cuglie il suo bambino e un omino alato. Un altro in rosso è rappresentato all'estrema sinistra. Altre immagini curiose sono i due personaggi uniti da una sola testa in basso a destra e una mano con omini al posto delle dita. Infine in basso, al centro, è rappresentato un omino giallo che sembra correre verso destra. Questa figura è stata interpretata come un passante che ammira l'opera o come l'artista che abbandona lo spazio pittorico all'osservazione dei passanti. Il murale si è stato completamente restaurato nel 2011. Oltre che nei centri urbani, la street art si diffonde anche in luoghi di guerra o di guerriglia, come già abbiamo avuto modo di vedere in Cisgiordania con le opere di Banksy. Negli anni 80 del 900 si iniziò a dipingere sul muro che dal 1961 divideva in due la città di Berlino. A Berlino oeste, sotto il controllo del regime comunista, fu vietato toccare il muro e avvicinarsi con l'intento di oltrepassarlo, pena la morte. A Berlino ovest il muro divenne una bandiera di libertà e dal 1984 alcuni artisti cominciarono a dipingerlo, come l'artista francese Thierry Noir, che realizzò un murales lungo circa un chilometro, e Keith Haring, che nel 1986 venne chiamato dal Mauer Museum per realizzare un murales di 300 metri, che fu distrutto poi nel 1989 in seguito alla caduta del muro. Questo murales raffigura una catena umana formata da omini tracciati in rosso e nero su fondo giallo, ovvero i colori della bandiera tedesca, per sottolineare la necessità di allora di uno Stato tedesco unito.